Se dovessi scegliere un'opera o un libro che ha accompagnato tutto il mio percorso, dal primo anno della laurea edrenale al primo anno del dottorato che faccio adesso, sarebbe sicuramente questo libro qui, che è Gli altri scritti sull'arte, vi vedete. È un libro che mi ha fatto appassionare alla materia che studio, storia della critica d'arte e è ancora nella mia libreria. Grazie a tutti.